Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui per fare una cosa Allora raga, che cos'è questa cosa? Vi volevo dire che io volevo fare i video sugli horror, questo è un altro horror Vi volevo dire che prendo i video sugli horror, non so se li farò questo fatto di video sugli horror Non so se li farò, se vedete cambiate le maglie perchè ovviamente questo è un altro computer Non li farò, senti un altro social video Non li farò forse questi video, perchè mi piace, in genere è normale raga Non so neanche perchè tengo aperta la schermata Ah mi piacciono i video normali, non questi Non mi piacciono i video normali perchè gli horror mettono un... Cioè non sono cose belle in primera, c'è un po' più epimiste Ah a parte, non volevo dire alcune utizie suetta Ok, guardiamo un attimo la cosa degli horror Allora io gli horror non credo Non credo perchè... Ah, come detto a me scherzato quando le non sei intorno al 6 Non li farcela Mi spiace... So che molti video sono del genere horror Però no Guarda Mi spiace molto di avermi scontentato E possibilmente come vogliamo vedere questi video horror Ma non posso raga Prima perchè i video horror sono praticamente difficili da scaricare questi giochi Dato che io non c'ho stimo Aspettate... Ehm... Ehm... Ehm...